Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buongiorno e ben ritornati su questo canale. Prima di tutto, prima di presentarvi l'ospite graditissimo di oggi, che è un grande ritorno, vi voglio ringraziare per aver raggiunto i 4.000 iscritti. I 4.000 sono tantissimi e spero che ce ne saranno molti altri. Grazie a tutti. Naturalmente se vi piacciono questi contenuti vi invito anche a divulgarli sui social, ma lasciarci un bel like e naturalmente i vostri commenti e suggerimenti. Grazie. Bene, oggi segna un grandissimo ritorno sull'Orizzonte degli Eventi, il ritorno di Enzo Pennetta, che ci fa un regalo particolare, ci parla di Il Mondo Nuovo di Huxley. Un'analisi di un romanzo che non è solo un romanzo, come scoprirete. definire un romanzo profetico e forse programmatico. Bene, vi lascio con Enzo Pennetta e naturalmente noi ci vediamo la prossima volta, con la prossima presentazione. Io sono Barbara Tampieri e questo, come sempre, è l'Orizzonte degli Eventi. Grazie, buon ascolto. Ciao. Amici, buongiorno. e ben ritornato a Enzo Pennetta. Grazie, ciao. Ciao Enzo, sempre un piacere averti qui. Lasciamelo dire, è anche un onore, insomma, perché... Eh, dico pure. Grazie a te, no, a parte tutto. No, no, è benissimo. e ha raggiunto una qualità veramente notevole e va riconosciuto. Grazie mille. È un giudizio che sicuramente vale tantissimo. E poi sei stato richiesto, ma quando torna il professor Pennetta, quindi eccovelo. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, oggi parliamo dei contenuti di un famoso romanzo, di cui tanto si è parlato anche nei miei video precedenti. Abbiamo parlato dell'Axley persona, personaggio... È vero, cioè, negli altri puntati, la rivoluzione psichedelica. Sì, ah, ma salta sempre fuori, eh? È uno dei grandi, diciamo, maestri di pensiero del Novecento, nel bene o nel male. E poi, obiettivamente, infatti, sottovalutato. Che se c'è una cosa che io faccio... Io la do ai miei studenti da leggere Il Mondo Nuovo, però dovrebbe essere dato in letteratura inglese. O in letteratura, appunto, e basta, o in filosofia. Sì, sì, sì. Perché mica lo conoscono tutti, giustamente. Anche perché lui era, insomma, personaggio elitario che si rivolgeva più che altro all'elite, ecco. E sì, è bene che rimanga, perché questo è il loro modo di comportarsi, no? L'elite può circolare il messaggio. Sta lì sotto gli occhi di tutti. Parliamo del mondo nuovo di Axley. E poi anche ci fu una sorta di seguito, ritorno al mondo nuovo. Quindi questi due romanzi, che sono romanzi però fino a un certo punto. Cioè, hanno questa ambiguità di fondo che sembrano la denuncia di qualcosa, ma a distanza di tanti anni sembrano quasi un manuale di istruzioni. Un programma. Sì, perché no. E dunque, io credo che una puntata su il mondo nuovo, effettivamente, ci stia benissimo, perché è citato ormai più volte, ma chiaramente sempre su punti specifici. E invece uno sguardo sull'insieme, in effetti, per lo meno che io sappia, non è stato in genere fatto. Tra l'altro, voglio quasi rivendicare, insomma, un diritto, nel senso che io ho citato il mondo nuovo nel 2011, in inchiesta sul darwinismo, quando effettivamente non se ne parlava ancora molto in giro. Quindi, insomma, sono quasi uno dei riscopritori di questo libro. Beh, è anche ovvio che forse l'abbia ritrovato nei miei percorsi, perché è fondamentalmente basato su una visione darwiniana del mondo. Per cui è chiaro, nel momento in cui stavo scrivendo inchiesta sul darwinismo, è diventato un elemento importante all'interno della ricerca. E poi è impressionante come abbia, in qualche modo, preannunciato una serie di cose impensabili nel 1932, quando è stato scritto, e però, insomma, puntualmente verificatesi, puntualmente intendo dire, chiaramente non nel dettaglio, perché la realtà poi nessun progetto è esattamente alla lettera, ma nella sostanza, sì, iniziamo subito, buttiamo qualcosa là. Le prime pagine del libro si aprono con una visita in un centro dove i bambini crescono con fecondazione artificiale, e neanche utero in affitto, un utero artificiale. E la guida porta questi studenti a visitare il centro, ed emerge subito che se uno dice mamma e papà sono parolacce, cioè, una volta i bambini nasceranno da una madre, lì si gela, diciamo, la comitiva, cioè, diciamo, ha detto una parolaccia, no? Ecco, ora, nel 1932, insomma, impressiona, no? Che qualcosa che poi, anche adesso, per molti non ancora stupisce, ma, insomma, era molto fantascienza. Sì, soprattutto perché, scusa, in quell'epoca c'erano dei regimi che esaltavano la famiglia. Sì, sembra... Sia il fascismo, ma anche lo stalinismo, insomma, c'era... E' vero, perché, comunque sia, la famiglia come nucleo della società veniva riconosciuta, a meno che non fosse una visione totalmente, insomma, topistica, insomma, dalla città del Sole alla Repubblica di Platone, ma, insomma, ne pratica, no. E' vero che l'eugenetica, invece, scorreva forte, e anche nell'Occidente, io lo faccio, per esempio, a molti miei studenti, che l'eugenetica era molto più forte negli Stati Uniti che in Germania. Sì, sì, sì. Chiaramente, chi vince, in qualche modo, scrive la storia, per cui, sta roba qua è stata messa sotto al tappeto. Però, è chiaro che il traguardo massimo dell'eugenetica sarebbe quello di fare fecondazioni mirate. I tedeschi l'hanno fatto con l'Ebesborn, no, il programma, però era sempre, non avendo la tecnologia, facevano incrociare ariani con ariane, cercando di ottenere, appunto, il risultato geneticamente desiderabile. Tra l'altro, i figli di quell'esperimento sono tutte persone assolutamente devastate, sia per la consapevolezza, quando poi hanno saputo come erano nati. Ci sono dei documentari veramente strazianti, di testimonianze, e quelli, insomma, non erano nati in una situazione artificiale, ma, come hai detto tu, insomma, avevano pur sempre un padre anamato. Un padre anamato ce l'avevano. Ecco, magari non era un matrimonio d'amore, ma, insomma, c'erano due genitori fisici. Ecco, quindi, ma nel libro viene riconosciuto che quel tipo umano che si va a costruire, piano piano vedremo i vari aspetti, così capiamo il presente, no? Quel tipo umano che si va a costruire ha problemi psicologici pesanti, cioè non è felice. Tant'è vero che a un certo punto viene messa su una commissione che deve studiare la droga ideale, perché queste persone senza una droga che, diciamo, in qualche modo addormenti, anestetizzi la sofferenza psicologica, non può andare avanti. Quindi anche qua c'è un riconoscimento che oggettivamente, però è impressionante perché nei dialoghi dicono ma vi rendete conto che questi qua nascevano da un uomo e una donna, stavano dentro la stessa casa, costretti a frequentare sempre quei due, con dei fratelli, c'è una cosa terribile, no? E questi qua rimangono inorriditi. Ma com'era possibile che succedesse questo? Io credo che, volendo, tu puoi convincere le persone di questo. Poi non riescono a capire perché soffrono. Per cui danno la colpa ad altro, no? Però a quel punto il Soma, appunto la droga immaginaria che non ha controindicazioni, risolve questo aspetto. Ora, se vogliamo, noi ce l'abbiamo pure questo nella società contemporanea, da due punti di vista. intanto la legalizzazione delle droghe, avete fatto quelle bellissime puntate con Giannaccone, con Mario, anzi insomma, è chiaro che anestetizza la rivolta. Quando uno si mette in un angoletto e si accanna, basta, non va a rompere le scatole in giro, no? E tutto sommato, ecco, si accontenta di questo contentino. Seconda cosa, abbiamo gli psicofarmaci, per cui se un io, vabbè, perché non è che parlo di persone qualsiasi, tutti noi, se io fossi infelice perché il lavoro è strutturato secondo orari e modalità inumane, i rapporti sociali sono una pena che sono, eccetera, eccetera, qual è il grande obiettivo, no? Il coperizzare la vittima, per cui ritengo che in me c'è qualcosa che non va, rinuncio a cambiare la società e mi prendo le benzodiazepine, perché sono io che ho dei problemi. Oppure gli opioidi, come adesso è l'ultima... Sì, beh, è chiaro, lì c'è tutto il ventaglio di possibilità, ognuno, no? La sua. Però anche con questo aspetto e alla fine non c'è il Soma, perché non l'hanno trovato, ma è presente come caratteristica. Quindi l'insoddisfazione, non protesto più, se posso prendermi qualche sostanza, ah, tu questa scelta. È un altro punto che ritroviamo. Ritroviamo l'eutanasia per i sessantenni, insomma, sono un po' allarmato da questo. Adesso pare che le persone più di sessant'anni non potranno andare a prendere i bambini a scuola. Allora, poi qui si passa dal devi lavorare fino a 70 ma devi morire a 60. Incrociando le due cose, devi lavorare fino all'ultimo giorno della tua vita e possibilmente levarti di torno il giorno che potresti incominciare a costare due soldi in cure mediche. Questo è presente nel mondo nuovo. Cioè una giovinezza, adesso cosa vediamo, tutti i tiri, ti ritocchi, quello che ti pare, ti prendi sostanze chimiche di vario tipo e in fondo fai l'eterno ragazzino fino a 60 anni, anche di più volendo che ci riesce. Ma questo era già presente. C'era una giovinezza per tutti ma poi a 60 anni ti togli il ritorno senza tante storie. e questa è una mia entità che a noi piaccia o meno e circola, pensiamo a certi paesi del nord Europa, non guardiamo magari che noi abbiamo ancora questa resistenza, siamo indietro perché siamo avanti, una certa resistenza che va a mettere al contrario, perché chi è arretrato vuol dire che è uno ancora forte. Quindi, e questo pure ce lo ritroviamo. Quindi, inizio vita è progettato senza una famiglia e mo' ti butto anche un'epoca di riflessione di questi giorni. Ma, allora, prima abbiamo avuto disgiunzioni di sesso e amore, affetto e nel mondo nuovo c'è. i bambini vengono educati ai giochi erotici con lo slogan ognuno e di tutti. La riproduzione è ormai una tecnica lasciata a chi si specializza in questo, abbiamo visto con una gestazione extracorporea. Bene, quindi ora la separazione fra eros e agape diciamo è già venuta dagli anni sessanta in poi, no? Era già abbastanza avanti. Adesso addirittura quello che mi sorprende in questa situazione perché sto vedendo la separazione fra eros e fisico. È uscito un articolo che girava in questi giorni su New York Times in un giornale degli Stati Uniti che consigliava ai ragazzi di fare sesso con la mascherina. Ho visto anche la versione italiana. Sì, che praticamente è esattamente la cifra della prostituzione, no? C'è senso senza baci. Sì, sì. No, poi tutto il resto senza protezione magari, eh? Eh, sì, poi andiamo veramente alla pallota spuntata con la scena magistrale o due in tutte e due incellofanati che a quel punto immagino appunto che il virtuale possa avere un suo grande momento da adesso. ecco, altro punto anticipato dal mondo nuovo di cui vediamo anche degli sviluppi ulteriori. Questo è molto interessante. Un altro aspetto che vorrei segnalare, poi tutte queste cose le dico insomma pensando che chi non l'ha già letto venga voglia di leggere perché non ce la farò a dire tutto quello che c'è. Anche quando lo rileggo ho detto oh, caspita, questo sai che non l'avevo capito l'altra volta? Un'altra cosa che troviamo sempre nelle prime pagine a un certo punto che poi lui è molto abile un grande scrittore e fa dire a un ragazzino no, perché c'era a un certo punto un polacco che disse una cosa quello guarda e dice scusa ma il polacco è una lingua morta? Sì, ma non lo sai che tutte le lingue sono morte? ora pensiamo a questa ossessione dell'inglese per cui questa fissazione che è arrivata a tutti perché ormai quando si scrivono i figli a scuola la prima domanda è ma qua come fanno l'inglese oppure quello slogan che insomma lascia molte perplessità senza l'inglese non vai da nessuna parte veramente c'è un sacco di cose che si possono fare senza l'inglese però è utile ci mancherebbe ma ecco è passata l'idea che quella è la lingua e le altre sono ancillari cioè sono se ti va sono un po' dei lussi che ti permettino e c'era quell'importantissimo episodio di Ken Lodge il regista che nel 70 fu incaricato per Save the Cile di girare un documentario lui va in Africa a girare questo documentario però nota una cosa che lo colpisce moltissimo nelle scuole che seguono Save the Children la lingua praticata è l'inglese dice scusa un attimo ma qua stiamo in mezzo all'Africa perché questi devono seguire lezioni in inglese lì Ken Lodge realizza che è un mezzo del colonialismo cioè la colonizzazione passa attraverso questi mezzi lo dice la storia è carinissima perché il documentario Save the Children l'ha pagato ma non l'ha mai proiettato lo troviamo anche su Wikipedia la storia di questo documentario è rimasto se lo sono tenuto ho detto vabbè grazie una volta che dici questo ce lo teniamo per noi quindi capiamo pure pure questa pennellata che all'inizio sfugge ma si infonde una società globale mondialista è ovvio che si parla in unica lingua ma mi colpisce adesso pensarci alla luce di questo fatto altro elemento quindi che incameriamo è la divisione della società in cast gli alfa beta delta epsilon ma se tu vai a vedere un'altra cosa insomma interessante è che le varie classi gli alfa sono ariani gli epsilon che sono l'ultima vengono descritti come scuri e fisicamente minuti e devono fare i lavori più umili e ci sono anche i rossi poi mi sono domandato perché sono anche i rossi poi ho pensato che in fondo ce l'hanno con gli irlandesi per vendicarsi ce li ha messi su agli epsilon quindi la suddivisione e in fondo non si realizza in questo modo tramite l'eugenetica ma anche il discorso che poi fanno quelli buoni fa venire l'immigrato che si raccoglie i pomodori ma cos'è se non un epsilon che quello che si sente buono dice ma in fondo lui è contento o come il discorso del ricacciare i neri nella piantagione che fanno sì sì ma sempre per la volta perché tutto sommato è uno schiavismo non formale mentre lo schiavista ti teneva là e ti dava da mangiare da dormire qua addirittura sono anche più paraventi questi qua perché da mangiare da dormire ti guarda solo è un po' come il feudalesimo dove se tu vivevi nel castello avevi la tua funzione non ti mancava il mangiare ma dopo quando si è diventati schiavi del denaro ognuno è rimasto solo con se stesso abbandonato svolta geniale perché lo schiavista doveva magari provvedere le cure quello si ammalava comunque era un investimento dovevi comunque provvedergli alloggio e cibo e questo è geniale perché non devi manco più provvedere quello tu lo sfrutti e poi dici il resto sono affari tuoi insomma come vivi per cui anche questa suddivisione in classi è interessante perché rispecchia una tendenza ecco un'altra cosa molto interessante i bambini a un certo punto nella prima parte c'è una miniera di cose già i bambini vengono portati di fronte a fiori e libri loro vedendo queste belle cose colorate ci corrono tutti quanti contenti e come si avvicinano viene scoppiato un petardo che li spaventa e poi viene data addirittura la corrente elettrica sul pavimento questo non me lo ricordavo esattamente e non devono amare i libri quindi c'è perché allora è vero perché uno di questi studenti dell'upper class ovviamente perché quelli che fanno in visita come avviene anche adesso la scuola viene demolita per il popolo per la classe dirigente la scuola si fa dicevamo l'alternanza scuola-lavoro se la facessero il popolino i dirigenti si fanno greco e latino storia-filosofia va bene e questo è rappresentato poi nel romanzo perché questi sono studenti quindi loro studiano però vedono questi bambini che appunto vengono fatti spaventare di fronte ai libri e allora uno di questi qua dice capisco che noi li spaventiamo davanti ai libri perché se uno deve lavorare non deve perdere tempo a leggere no? ma perché li spaventiamo davanti ai fiori? e questo glielo spiega dice beh vedi perché noi inizialmente incoraggiavamo la natura così loro avrebbero presi i mezzi di trasporto pagando il trasporto il problema è che una volta arrivati la natura è gratis quindi la natura non ti fa guadagnare niente allora l'abbiamo andiamo a scoraggiarli dalla contemplazione della natura e avviarli a delle attività da fare nella natura per cui loro andranno prenderanno i mezzi di trasporto ma una volta arrivati faranno attività organizzate cioè c'è stato villaggio vacanze per capirci d'accordo quindi e io ci ho pensato adesso pensando al braccialetto elettronico per il distanziamento dei bambini è è è è terribile tu immagini sto bambino io questo penso sia un crimine contro l'umanità che un bambino di pochi anni debba all'avvicinarsi a un coetaneo sentire questo suono questa vibrazione che lo blocca io io ti cito per danni e ti metto anche in galera per una cosa del genere ma lo vedi che c'era già nel mondo nuovo e che poi è Pavlov se vogliamo sì sì certo allora su Pavlov su condizionamento insomma si mette molto sul Pavlov infatti è uno degli idoli del mondo nuovo tutti tutti i riflessi condizionati ecco quindi si va dispiegando un tipo di società che poi è oliata come un ingranaggio che funziona benissimo la televisione pensa nel 32 era sperimentale lì viene detto appunto che avrà un ruolo importantissimo per formare le persone nel mondo nuovo ci sarà il cinema odoroso insomma questa cosa con i sensi insomma devono essere presi con i sensi e bloccati nel presente lì viene presa la frase di Henry Ford che la storia è una stupidaggine e non ritroviamo questo tentativo di smontare lo studio della storia e tant'è vero che la datazione nel mondo nuovo parte dall'era di Ford cioè dalla produzione della prima Ford modello T nel 1908 quindi la catena di montaggio la negazione della storia il Fordismo e la religione poi si adatta bene perché chiaramente una religione deve spazzare via le altre e viene detto chiaramente sai c'era il cristianesimo che rompeva un po' le scatole noi che abbiamo fatto abbiamo lasciato le croci dove stavano e abbiamo tagliato la cima e sono diventate delle T e quindi T come il modello T per cui si è passati dal cristianesimo al Fordismo il cui simbolo è una T e l'abbiamo neutralizzato quindi anche questo l'aveva capito benissimo Comte non puoi proporre una società totalmente non religiosa perché una religiosità surrogata deve saltare fuori gli dai il Fordismo gli dai e questo Axel lo ripropone nelle Porte della Percezione gli dai dei rituali parodia della Messa dove all'ossia consacrata metti sul priote la mescadina ci metti qualcosa di allucinogeno e questo nel mondo nuovo lui già lo dice molto prima di scrivere le Porte della Percezione hanno bisogno di un surrogato di religione e questo viene dato pensiamo a tutto il New Age no? lì poi scaturisce anche in questo ci stanno grandissime anticipazioni poi abbiamo ecco quello che io aspiro ad essere abbiamo i selvaggi secondo me e te suppongo non lo so anche quello che ci sta ad ascoltare e non accettando queste regole sono stati buoni non li hanno sterminati fisicamente ma li chiudono in riserve riserve dove tu puoi continuare a vivere come prima però te ne stai recintato là dentro e quelli del mondo nuovo lo vanno a vedere tipo safari no? come vive la gente selvaggia e che insomma è una possibilità perché poi è molto come è fatta la trama che ad un certo punto uno di questi selvaggi viene portato nel mondo nuovo e lo vede con i propri occhi ovviamente come lo vedremmo noi e appunto tante cose per loro sono diventate normali qua mi fa anche pensare alla finestra di Overton no? cioè la normalità vista dal selvaggio e dal mondo novista chiamiamolo così sono due ovvietà contrapposte no? per me era ovvio questo per me è ovvio quest'altro no? per cui la plasmabilità no? anche della della mente umana che però appunto continua a soffrire la sofferenza non riesce a togliere per cui si deve drogare una cosa che c'è nel libro tutto quello che appartiene al passato è vecchio e deve essere cancellato anche questo è proprio attualità cambiamento il mondo è cambiato non torneremo più come come eravamo prima cioè questo è proprio un programma non si può negare che sia sì è un sottofondo cioè negare il valore del passato per far interiorizzare che qualunque cosa venga che io ti provini e sarà sempre meglio e allora capiamo questo nell'ottocento è stato costruito appunto con Comte tutta la narrazione dei secoli bui del Medioevo e nascono con questa intenzione perché quello che adesso ti proporrò è sicuramente meglio e abbiamo tutta la costruzione di quelle false storie che mi diverto molto a raccontare anche a scuola c'è perché Cristoforo Colombo non l'hanno fatto partire facendo resistenza il 99% risponderà perché pensavano che la terra fosse piatta benissimo e allora Dante Alighieri perché la rappresenta sferica? nessuno gli dice niente che è molto prima che è un pieno Medioevo e non solo aveva anche il concetto di gravità perché lui nell'attraversarla e andare verso il Monte del Purgatorio si capogolge quindi è la gravità aristotelica è la terra di Aristotele che nessuno aveva messo in dubbio ma allora perché Cristoforo Colombo non volevano farlo partire? Avevano ragione perché l'America non sapevano che ci fosse quindi se tu mi parti dalla penisola iberica per andare in Giappone con tre bagnarone fondamentalmente sei un suicida questo è il motivo per cui non lo facevano partire è passato che fossero degli stupidi ottusi e invece c'era gente che sapeva il fatto suo Colombo era un pazzo furioso perché si è inventato pure che i calcoli i calcoli di Ratoste che già nel secondo secolo avanti Cristo aveva calcolato con una precisione altissima la circonferenza terrestre va bene con un metodo geometrico ingegnosissimo lui si è inventato che le miglia erano state tradotte male per cui con il calcolo di Ratoste in realtà la terra era molto più piccola di quello che si pensasse con questa storia è riuscito a partire quindi vedi quante cose sono inventate per far apparire un passato negativo alla fine si giunge alla negazione del passato perché poi può sempre saltare fuori che la balla l'hai detta e allora cosa di meglio che dire il passato non esiste più quindi non importa perché studiare una cosa che non c'è addirittura il passato sono gli anni 70 fino fino all'entrata dell'euro gli anni della liretta si è stato visto come rimane la negativizzazione del passato come se noi scusa non avessimo vissuto quegli anni e non ce li ricordassimo come nel bene e nel male come erano un tantinello un po' più normali ecco testimoni scomodi di un mondo largamente imperfetto ma oro zecchino in confronto a quello che propongono adesso però vedi come funziona bene cosa la mentalità dello schiavo fa sì che quando tu cerchi e qua il mito della caverna di Platone ci torna quando tu cerchi di liberarli e dirgli oh guardate che li stanno ingannando arriva la pischelletta di tu non è nuova zelanda che fa ok boomer ti prende per i fondelli stai zitto te che sei un baby boomer capisci niente fammi mangiare il mio sterco e non ti permettere di provare a liberarmi sì sì e quindi questo ecco viene reso definitivo con la soppressione dello studio della storia un elemento che ci tengo a dire una chiave di lettura importantissima del mondo nuovo io ci metto diversi elementi nell'ultimo uomo nel libro che ho fatto nel raccontare il passaggio dall'ottocento a oggi cioè la trasformazione antropologica che si è realizzata da quel momento fino a oggi c'è una cosa nel mondo nuovo che non ho visto domandarsi a nessuno non è che se ne parli tutti i giorni ma insomma c'è un saluto che assolutamente non ha senso un complimento non scusate quando una persona è molto posso dirgli una cosa veramente bella gli dici che è pneumatica la cosa interessante è che tanti tu leggi gli fa piacere dirsi questa cosa poi gli pensi alla gomma della macchina perché sarà pneumatica sarà che la gomma è una bella gonfia non sappiamo è chiaro che quindi gli sta dando un altro messaggio esiste in realtà una metafisica sottostante al mondo nuovo ed è a quella appunto dell'ognosticismo perché diciamo adesso per chi non l'ha mai sentito nominare consiglio caldamente di andarsela a guardare perché si apre un mondo è una corrente di pensiero vecchia come il mondo che riaffiora periodicamente e che quindi è estremamente reale perché un pensiero che va avanti dell'antichità classica fino ad oggi è un elemento molto radicato non evidentemente nel pensiero che ciò quanto meno trova facilmente presa ora l'ognosticismo vede la vita materiale come un male vede l'umanità divisa in tre categorie i subumani anzi gli animali che hanno l'apparenza umana ma sono animali i subumani che a volte possono hanno qualche chance a volte no e poi quelli che hanno dentro di sé lo spirito divino che sono quindi la classe superiore bene quelli che hanno lo spirito divino hanno il pneuma quindi sono pneumatici come vedi nel mondo nuovo è rappresentata anche la suddivisione gnostica della società perché gli alfa ma attenzione gli alfa sono solamente quelli conosciuti c'è e viene detto un livello sopra gli alfa che sono i veri pneumatici poi sotto abbiamo i semi umani io azzardo dire che gli alfa siano i semi umani cioè quelli che hanno speranza di sviluppare verso lo stato divino ma non è detto sotto abbiamo gli animali veri quindi nella visione gnostica il mondo è diviso in questo modo d'accordo e l'elite perché l'elite si sente elite eletta in che modo se abbracciano questo tipo di pensiero questo è diciamo il pensiero sottostante quindi è bene che la società sia divisa in questo modo anzi va consolidata in qualche maniera ora ecco appunto riuscire a intravedere tutte le ricadute del pensiero gnostico pensa tutta l'avversione per la materia io ce la vedo oppure l'avversione per il denaro moneta l'avversione verso la proprietà tutto deve essere provvisorio non tutto deve essere il sharing non c'hai più niente di tuo le cose materiali sono il male lo vediamo adesso non tutto c'è l'esaltazione dell'immateriale quindi il rapporto a distanza la didattica a distanza il denaro immateriale e tutto questo è permeato di gnosticismo fino veramente alle midolla d'accordo e quindi pure questa è un'apertura che come vedi nel libro lui manda già a chi ha le chiavi per decifrarla e questo è molto iniziativo come comportamento come trovo che assolutamente vada presa in considerazione il messaggio che lui manda su Shakespeare perché già il mondo nuovo è una frase della tempesta di Shakespeare che bel mondo nuovo va bene e e poi il selvaggio ha letto Shakespeare e Shakespeare viene nominato all'inizio è importante Shakespeare nel nel racconto e proprio la tempesta che è un racconto che trovo molto è bellissimo perché comunque è una una commedia che viene molto esaltata però io personalmente le spiegazioni che trovi sono abbastanza strampalate cioè non provo a dare queste spiegazioni invece ci sono insomma delle interpretazioni molto interessanti che se devi andare a rivedere il fatto che si chiudeva l'era elisabetiana e si apriva in qualche modo appunto la coloniziazione cioè finì una certa fase il mondo in fondo è l'America sarà dove le idee cresciute in quel sottobosco culturale elisabetiano fatto anche di occultismo di no ad esempio il sogno della notte e mezzestate tutti quanti simbolismi no Marlow che invece denuncia con il Faust il primo Faust cosa succedeva a corte insomma una serie di personaggi poi il primo 007 ricorda me che era il famoso insomma lo stregone di Elisabetta cioè questo mondo maturato dentro Elisabetta a un certo punto si deve affacciare e diventare realtà e quindi questa è l'ultima opera di Shakespeare con questa chiude e simbolicamente quindi la chiusura di quella fase in qualche modo di elaborazione e in guarda caso infatti poco dopo poi morirà Francesco Bagone Francesco Beacon ma idealmente il mondo nuovo è raccolto con la nuova Atlantide questo racconto utopico dove appunto si disegna questa società governata dagli scienziati e l'utopia che deriva da tutto questo anche io trovo che questo messaggio è molto presente tant'è vero che poi lo stesso Axi fa l'isola che è un altro manzo distopico è la nuova Atlantide e quindi con questo continuo richiamo a Shakespeare ci dice anche questo poi anche il mistero che avvolge anche l'entità di Shakespeare quella letteratura che c'è tutto quel corpus di studi è un campo interessantissimo di sicuro chiaramente non hai nessun manoscritto originale era forse anche qualcuno dice lo stesso Francesco Beacon contribui lì chiaramente apriremo un campo di indagine interessantissimo prendiamolo così come già ci è sufficiente e chiaramente era in qualche modo di Globe Theater già un po' ti dà dava quest'idea che comunque era un pensiero che aveva come obiettivo il mondo e la copertina della Nuova Atlantide appunto rappresenta la barca che l'Inghilterra che passa le colonne d'Ercole e va verso il mondo quindi è un pensiero interessante l'affermarsi pure questo vai a pensare queste cose ma in fondo vuol dire il cristianesimo ha fatto la stessa cosa nessuno dice che è un'invenzione che volesse in qualche modo proporsi al mondo non ci vedo niente di di strano anzi aggiungo devo pensare anche un'altra cosa quando adesso senti le persone che ti obiettano ma in fondo chi avrebbe interesse a comandare eccetera scusami un attimo io dal primo libro di storia che leggo trovo solamente gente che vuole comandare eh sì dagli Xos dagli Titi in poi e sono gente che voleva comandare mi sorprenderebbe il contrario no? non mi sorprende che poi sviluppi mezzi sempre più raffinati per farlo anzi quella volontà di comando per esempio Kubrick la mette addirittura negli ominidi insomma si rifà proprio datta all'inizio mi tocchi mi sta nel cuore quindi insomma è certo infatti quindi è una cosa che fa parte dell'umanità fino fino dalla cioè quando dicono ma ti pare che c'è della gente che vuole avere il potere noi ti dicono ah dai credi scusa tu credi il contrario vai contro libri di storia cioè c'è gente che c'è Gengis Khan si sono fatti migliaia di chilometri a cavallo perché volevano il potere ora perché non dovrei pensare che oggi ci sia la stessa intenzione no? mi sorprenderai se vedessi arrivare uno a cavallo certo sarà un po' più raffinato va bene e anzi cerchi di realizzare un sistema non soggetto a rivoluzioni ecco il mondo perfetto no? il mondo del so ma il mondo dove non permetto che si costruiscano in realtà come la famiglia che è il primo cioè nella famiglia tu impari a ribellarti cioè perché se non ti incavoli coi genitori quando vuoi uscire quando tu vuoi fare una cosa e loro ti dicono di no quando imparerai andrai a far valere la tua volontà se stai dentro una comune chi te la pigli e poi è così e il mondo è così non ti ribellerai mai quindi funziona funziona benissimo anche sotto questo aspetto un'altra cosa quello che non si capisce che a certi livelli il potere è la droga la droga materiale è per far reggere questa società alle caste inferiori ma la vera droga dell'elite è proprio il potere in sé sono in grado di un verbo siciliano un po' sconcio ma insomma sì sì così infatti i soldi non contano in confronto al potere quindi perché sorprendersi no? anzi io userei un metodo opposto nel momento in cui non capisco chi sta comandando mi comincio a domandare chi è non sai come cosa ti gioca a carta che se non capisci chi è il pollo sei tu esatto se non è evidente chi è che comanda è qualcun altro quindi andrebbe quindi adottata la metodologia opposta una cosa importante ancora che è presente nel mondo nuovo è un passaggio finissimo per vendere questa chicca a un certo punto si parla della scienza ed è bellissimo perché noi siamo stati cresciuti nel culto della scienza aspetta capiamoci bello voi siete cresciuti in quello che credete sia la scienza perché in realtà vi abbiamo educato ad accettare quello che vi viene detto in realtà in maniera critica quello che dice la scienza e vi dice una cosa e anzi vi state insegnato a non accettare nessuna teoria veramente rivoluzionaria perché la scienza come l'arte è pericolosa perché può innescare pensieri nuovi che quindi sono rivoluzionari dice ma dice ma veramente ti dico una cosa conoscevo un valentissimo ragazzo che a un certo punto senti questa cosa quanto è importante e ha elaborato una teoria in cui dimostrava matematicamente che esiste il finalismo cioè che le cose hanno un fine è la cosa più pericolosa che si possa dire del mondo nuovo è nel nostro mondo tu devi vivere tu pensi al darwinismo questo ti dice dall'inizio alla fine il libro di pievani no l'evoluzione che non ci aveva previsto noi potevamo esserci ma come non esserci no per cui tutto è casuale e quindi se sei contingente no cosa ti arrovelli di essere importante vabbè sei una cosa senza senso e questo lo mette Jacques Monod nel suo caso necessità il mito di Sisifo questo condannato a sollevare peso che poi ricade dall'altra parte e poi lo risolleva una fatica interminabile infinita è malvagia in fondo no perché non ha nessuna speranza bene quando nel mondo nuovo Huxley fa raccontare a un personaggio che ha trovato matematicamente che ha valore poter pensare a un fine delle cose è stato mandato in esilio cioè questo qua che aveva trovato sta roba beh l'abbiamo mandato in una delle colonie più lontane a non dar fastidio quindi che dice che la scienza lui già te lo dice ragazzi ma la scienza è strumentalizzata è strumento di governo e pensa quanto è vero oggi questo tu pensa il patto trasversale per la scienza non è me se scagliano contro non è fa niente è quest'organo di censura come il CICAP no in realtà hanno la funzione non di tutelare la scienza ma di garantire che non si vada oltre la scienza consolidata o vuoi che sono decenni che si fa una scoperta seria che sia una oh meno male qualcuno che lo dice basta andare a guardare no sì infatti il bosone di X sì grazie va bene però per dire in medicina anzi siamo agli anni 80 bene cioè c'è un mantenimento del preesistente impressionante perché se tu arrivi con una rivoluzione scientifica vera e non non passa la cosa deve passare come appunto in una pseudo religione tu devi credere che hai una verità rivelata sai che uscirà a un certo punto un libro che è anche della Delphi l'ha pubblicato che è a un certo punto la fine della scienza cioè c'era qualcuno che proponeva abbiamo capito tutto resta solamente da fare le ultime misure cioè di capire i dettagli questo che dicevano tronca completamente pensa se fosse stato a fine 800 un penso del genere non saremmo mai passati la fisica newtoniana alla relatività alla quantistica cioè bloccate ma neanche l'elettricità secondo me se fosse stato nel 700 ti troncavano no quindi la scienza che viene promossa e questo qua lo dicono questa bella versione datata del mondo nuovo te lo dicono apertamente e anzi lui dice alla fine del ritorno al mondo nuovo che città di tu prima dice ma ma proprio te lo dice in faccia non si capisce perché in una società totalmente scientifica va bene un totalitarismo totalmente scientifico non si capisce perché debba finire chi lo mette in dubbio chi lo chi lo sconfigge e te lo dice proprio apertamente va bene quindi la scienza questo è oggi è perfettamente vedo i grandi difensori della scienza sono i carcerieri in realtà va bene ed è un'altra delle anticipazioni appunto che ci faceva Axley ma c'è anche una contraddizione di fondo proprio il contro no sono contro in tutti i sensi se il passato è superato e sbagliato come mai la scienza è cristallizzata nel passato cioè non progredisce il culto del progressismo del progresso però il progresso è bloccato è fermo è cristallizzato è importante che tu creda che ci sia questo progresso guarda che continuamente ci sono scoperte tu leggi le scienze ma le scoperte questa è la scienza normale che appunto aggiunge dettagli ti dà l'impressione di andare avanti ma in definitiva stai solamente ingrandendo di più lo stesso quadro quindi scorgi un dettaglio in più e questo lo chiami progresso tu vedi come ad esempio andando a toccare il darwinismo era veramente l'argomento chi tocca i fili muore no? perché intanto vai a mettere in dubbio la visione antropologica dell'uomo animale vai a mettere in dubbio il fatto che non esiste nessun fine vai a proporre che la scienza non si è fermata con l'evoluzione darwiniana ma potrebbe arrivare una teoria che scardina tutto quindi lì c'è il concentrato dell'intoccabilità anche perché poi appunto il mondo nuovo è darwinismo applicato bene cioè il sottofondo è che ciò che regola la società fa tutto capo quindi selezione o genetica animali tutti i meccanismi la programmazione anche del comportamento tu sei animalizzato e questo passa appunto se ti passa con la visione antropologica ecco qui lì vai a toccare veramente una serie di punti e la cosa bellissima è che lui ce lo dice e io credo che sia stupendo ma in fondo come di dubbi che ti vengono con Kubrick ma lui è d'accordo non è d'accordo intanto ce lo dice se vuoi le cose le trovi e quindi questo è un altro degli elementi che insomma andando a leggere è un manuale per la lettura della storia contemporanea quelli che chiamano i cookbook no? i libri di cucina sì esatto i prepari ha spiegato la cucina che ti stanno propinando sì con 1984 è bellissima anche la corrispondenza epistolare fra Axley e Orwell credo che Orwell fosse uno studente che si rivolgeva ad Axley per consigliarsi per il suo 1984 e infatti il ritorno al mondo nuovo che è il secondo libro che è già venduto insieme al mondo nuovo è una risposta di Axley ad Orwell chiaramente Orwell nel frattempo è morto purtroppo sarebbe stato molto interessante leggere la ririsposta la contrarisposta di Orwell però è un dialogo e in definitiva mi è da pensare che Orwell ha indovinato molte cose ma la distopia orwelliana potrei pensare come la fase che precede quella axleyana per arrivare al mondo nuovo passi attraverso 1984 per cui sono giuste molto osservazioni ma qual è la dittatura appunto che dice Axley perfetta quella dorata la gente non si rende conto di essere imprigionata vedo i momenti il collegamento funziona ancora sì si era bloccato un attimo poi vediamo in questa città è una vicinità tecnologicissima e poi c'è bollini di internet che sono quello che sono il paradosso mi stai dicendo che devo vivere in virtuale cavolo almeno dammi una banda larga che funzioni sì ma questo per poter domani dice vabbè ma il 5G ci vuole anzi io voglio il 6 il 7G brava hai ragione non c'è l'arrivato perché se no dice tutti è un po' come dice vuoi se non vuoi portare la mascherina fatti un bel vaccino così poi sarai libero questa libertà cioè noi eravamo liberi però te la tolgono e poi te la ridanno un po' a rate no? con la tessera a pool la libertà a punti vedete sono come sono come i finanziamenti dell'Unione Europea tu gli dai 10 miliardi di euro loro te ne danno 9 e devi dire grazie e devi anche dire come li spendi non te li bevi e gli devi anche ridare alla fine non se li beva è uguale ti tolgono una cosa che è tua te ne danno un pezzo e tu devi anche scodinzolare insomma è molto molto bello ti volevo fare una una riflessione sul fatto di Ford no? su questa società basata sulla produzione in serie quindi su un modello tipicamente industriale diciamo primo capitalismo quello proprio legato alla fabbrica che però è superato siamo passati a un modello dove domina la finanza e l'industria praticamente siamo nell'era della deindustrializzazione basta andare a vedere Detroit insomma come la città non una città morta ma insomma ci sono delle zone assolutamente di grandissimo degrado proprio quindi c'è nel libro c'è questa previsione di un passaggio da un modello industriale a un modello ancora più astratto cioè basato sulla finanza oppure no? mi ci fai pensare tu quindi ti do atto nel libro gli alfa viaggiano sulle auto volanti una specie di elicotteri e in definitiva cosa succede? c'è una deindustrializzazione io direi anche una diciamo si torna indietro dall'automobile per tutti quella che era stata la conquista negli anni 60 con questa storia delle CO2 dell'auto elettrica stanno togliendo le macchine che costano diciamo a livello che tutti si possono permettere stanno introducendo macchine che costano il doppio e quindi si sta togliendo quella conquista di libertà che era l'automobile e come tutto lo vediamo anche con questa cosa del distanziamento tutto tornerà ad essere per ricchi quindi l'auto elettrica la Tesla che mi costa 100.000 euro per fare 300 km e poi devo ricaricarla rappresenta questa tendenza quindi nel mondo nuovo c'è questa cosa sì il ricco avrà pensa l'auto volante in fondo e il drone che noi tra qualche anno io ce lo vedo che il drone scivoli sopra tu non bene costa moltissimo e se lo potranno permettere pochi per cui non dichiaratamente ma se va a leggere fra le righe questa cosa aggiungiamo oggi un altro tassello che Axley aveva messo bene bene abbiamo un po' insomma fatto un'autopsia a questo romanzo che poi abbiamo detto non è tanto romanzo ma è un programma insomma sì un programma romanzato romanzato sì insomma un po' indorato un po' a pillole Roberto Eco che diceva di ciò di cui non si può parlare si deve narrare quindi siamo in quell'ambito e lui parlava anche di libri che parlano di altri libri sì certo bene io ringrazio Enzo Pennetta per questa piacevolissima lezione diciamo anche lezione su su questo romanzo romanzo insomma programmatico chiamiamolo così di Aldo Saxli e spero di di riaverti presto su qualche altro argomento sempre con un grande piacere ti ringrazio per mi ospitata e per poter salutare tutte le persone che seguono l'Orizzonte e gli eventi insomma è un posto dove mi trovo bene grazie molto gentile ciao e saluto a Enzo Pennetta ciao a tutti grazie per averci visto e ascoltato se questo video vi è piaciuto sono contenta perché ho raggiunto un obiettivo se volete condividerlo e se volete lasciarci un like un commento questo è molto gradito quindi iscrivetevi lasciarci like appuntamento al prossimo video ciao arrivederci